I 73 lavoratori della Gesema S.P.A., la municipalizzata del comune di Mercato San Severino, sono scesi nuovamente in piazza per protestare contro la mancanza degli stipendi, che ormai si protrae da oltre tre mesi e soprattutto l'assenza di risposte sul futuro della società. I 37 dipendenti del comparto patrimonio e i 36 del comparto ambiente, insieme agli esponenti sindacali della Filctem CGL e Will Tech, sabato e domenica hanno installato un gazebo in piazza Ettore Imperio davanti al palazzo Van Vitelliano, sede della casa comunale. La Gesema S.P.A. è coinvolta nella delicata procedura di concordato in continuità aziendale, con i dipendenti che, malgrado i disagi, continuano a svolgere regolarmente i loro incarichi, come testimone allo stesso Aldo Iannone, rappresentante sindacale dei lavoratori della Gesema. Fin quando non avremo risposte che ci convincono che sono veritiere, perché noi fino ad oggi è solamente un chiacchierio, ma non ci sta, fino a questo momento, un atto ufficiale per iscritto che ci è pervenuto di quello che loro vogliono fare e che intendono fare. Questo è il dato di fatto, perciò le maestranze sono molto preoccupate, anche per il fatto che purtroppo abbiamo arretrato i quattro stipendi. Giustamente, persone tutte monoreddite, non è che possono sopportare ancora di più questa situazione che si è venuta a creare, che non l'ha creata certamente la Gesema, ma l'ha creata l'ente.